per ragazze di questo nuovo video io sono fame e oggi siamo in un'episodio delle bedwars oggi siamo con mario nil ciao domenico tv ragazzi alla mia domenico tv a raga comunque sapere che mario nil è forte non è vera scarsa e usa che lauro non è vera che non usa anche nel canale youtube che vi lascio in descrizione ovviamente iscrivetevi e mettere like a tutti i video tranne collati come si chiama ti fico ovviamente e non guardano nemmeno e mi ti hai dimenticato di che mi ha anche anche che in questo quasi da mani con le realtà a tassina handicappata essendo troppo quindi si è mutato ragazze da fare il ponte nicola detto bardo come noto io guardo io allora ragazzi non hanno raggiunto e 15 like però dice la ragione di e per me è lo stesso un buon numero quindi mi sta benissimo e quindi no nico non trova che aiuto ragazzi tu sono venendo la carta non venendo sono i rossi rossi per piacere aiuto è stato giù io ho portato giù raga armata nicola rama a me a rob ma io facciamo dei spiaro hashtag film ruba le grill non rubo le figlie capito o il rossi raiosso asciugato di trovato nicola basta uccidere persone non ti fa contro la violenza ma io ho uno smeraldo qua giù ho cercato di sta due due cuore se ne è scappato allora raga prima cosa ci serve smerali servono chissà chi è rosso case come di russo non siamo lui sa uno che la stessa skin ragazzi è portato tutti quanti mi raccomando e banato da dive perché la skin di fame non può averla nessuna la skin di fame di fame ora raga mi sono salvato in un modo incredibile mamma mia ragazzi comunque volevo dire che tra poco il mio logo c'è il banner e la grafica del canale c'è questa cosa in realtà cambierà perché ho un mio amico che è bravissimo a fare queste cose ragazzi gialli 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 il regalo le h raga questo come te mario quindi la boccia paramo principi fate spalle che aveva questo è un era mio che vendita ok allora ragazzi io mi sono fatto sapato che hanno tutti contro di noi oggi sono troppo di loro perché l'ho visto a film i episodi oppure kenny oppure dove voglio che sono quindi da posto ma io sto guardando basta che vengono e sinceramente so direte di comunque so qua ma vendi tutto rende tutto uno sperato e manca solamente è stata la vendita grande po di te di te di te eccolo eccolo a non è la mia uguale identica tipo l'ho ucciso si si lo so ruba kill ruba kill con il rubo di legati spommato così che laura a bocchelle si raga non è vero non credito non usa che laura forse doppio clic forse ma niente che laura giusto marionil giusto cazzo mi ha visto sto bastato non si dicono queste parolacce cattivo ne facciano le femmini vendi ma quello femmini che zimbo buono però ho visto perché maronia scarso si chiede che siamo scarsi non sono scusi da domenico quante che le stai quante che le stai quante che le stai ma tutte le rubo di chi non ciò quanti che stai ma tutte le rubi le kg voglio sapere quante che stai boom a record no sta scritto in alto a destra 36 quante le ho fatte io 23 avrò di 35 e è domenico laura tu rubi kill domenico il fi guardate le lente senza spero è un genio dove chiede picchiato domenico fare diamante mamma mi doveva schifo domenica come grazie nicola grazie nicola noi non rispetto che schifo che sei allora schifo per l'uomo rispettata ragazzi buffo del cazzo buffo buffo guardate con dei commenti per cacciare marini il debito ma è stato bello e fatte livello 3 abbiamo loro gg no gg tu non è l'ora tu non avrei mai l'ora ci abbiamo loro non avrei mai l'ora ma bo ciavitami quando ma io non farei il dialetto non si usa il dialetto era una canzone maroni con la se squallito ragazzi loro o loro cazzo di gomas mancavolo di boh ma che ma che di sogni la notte c'era umano e marioni chi quando chi è domenico dimmi se una latrina umana sei capito una latrina smeraldi vogliamo fare 4 e 4 no no non penso a fai io raga uno da noi si vendevo quello fatto paura o due di loro ragazzi entra la massa tempo di venuglio due di noi aiuto ragazzo veramente mamma mi troppo pro solo mamma mia sono belle perché sono impegnative no 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 poi quando registro con più persone e più parianda e ma non solo perché sono più persone perché quando parlo devo parlare tipo da solo ma non sono solo io l'ho visto domenica ma ma ci mi ha ucciso ragazzi comunque ai cento di dirvi grazie per i cento iscritti c'è ragazzo 100 iscritti ragazzo che poi stamattina no ragazzo e ragazzo e base è ucciso domenica ma non ci posso mai chiedere ragazzo comunque praticamente stamattina stava a 97 iscritti poi io vado a vedere sto a classe tutto live poi 104 c'è ragazzo sul serio grazie davvero e poi dai per le giusto sui video della film craft c'è ragazzi che si fa qualcosa di straordinario allora ora il ferro mi pare che non manca ancora il ferro giusto ma la vita altino parte le cose non cosa 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 domenico ce lo devi di ora resta a non ho deciso di fissare la film craft una volta due settimane vero film ho detto la diretta che ha scritto regola si sia di quali mi ha ricordato ovviamente io ho l'alzheimer precoce che praticamente fissero alla film craft per una massima due volte la settimana appunto per entrare la cosa un po più più becce poi un smeraldo e per me a me 5 me servono e io uno di noi alla serie andare avanti alla sala o più velocemente alla fine come servono sperato ho fatto che c'è nel senso mario prego per combattere un materasso ea non posso o 80 fame f4 e me e me e me e metri o fame e me 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 maio 30 gradi mi sembra aspetta andiamo a distruggere qualcuno vince vero 4 aspetta ok dopo un quarto torno di legislazione finalmente posso dire che sono quasi full quanto costa l'enchant in cane o mio dio quando costano i gianni aspetta aspetta che c'è una situazione di pericolo mamma mia allora vincendo sharpness costa se non sbaglio 5 croc back 10 e per aspetti knock back 10 ecco non come back il pezzo di knock back e 10 a 1 aspetti quattro sito c'è un altro vince se lui ai special sta che stacca di diamanti a mamma mi manca uno smeraldo mi faccio la spada fire aspetta stasino se ne sciarquino e quindi poste in base vini vini e un nome manca ecco qua ragazzi ragazzi raga e gli avrò no raga non è normale raga non è normale non è normale non è normale non è normale dovete vederlo dovete vederlo come usano le altre dovete vederlo sono a casa perciò dobbiamo tutti a tutti e quattro a tutti e quattro e uno può anche di abuso forti non sono forse sono atto quelle ne hanno disintegrato ne hanno colpito da tanti ci proprio istante in giro cioè si riesce a vedere dal video dal video vedete sì lo vedete voi ok vedo che se in chianti un item per tutti gli altri raga comunque questo al centro chissà centro il questo qua il blu il rosso chico la cosa ne ha questo questa pure base nostra ora ha buttato giù nicola gg nico raga andiamo da aziende ora che in base nostra sta qua ragazzi abbiamo vinto sta qua sta qua ma dove sta ragazzi scappato sta qua fuori è scappato non ci credo riusci a scappare non ci posso mai credere martino pack di no perché no nicola ha frecciato sto vedendo io nicola ha frecciato non ci muoveva non c'è una ragione ha ragione mario si muoveva ma non sta nemmeno ci stando raga non avevo quel notebook cazzo mamma mia secondo me è esagerato un momento fire aspect sulla spada ci puoi fare qualcosa cerco di fare però non vi dico niente perché per me è esagerato come frecciatelo raga frecciatelo mamma mia gc ha no vinto ma romano ragazzi ragazzi ma non si è durata tantissimo no avevano ne aveva due cani bellissimo gg sta parte da bellissima sta partita e si tratta tanto per è stata bellissima che abbiamo vinto cioè va bene ragazzi allora fratti è stata stressante però c'è molto integrativa però bella sì e dire che per questo video è tutto ragazzi arriviamo a 10 like e vi porto un'altra bedros con questa squadra gg minecraft gg minecraft gang la gg minecraft e niente ragazzi questo video è tutto spero vi sia piaciuto se si lasciate un mi piace e iscrivetevi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi bella ragà bella ragazzi bella ragazzi come Grazie a tutti